Eccoci qui, siamo ai domeni e abbiamo incontrato Dimitra, un'attivista di Ecopolis che segue la situazione direttamente sul campo fin da agosto. Dimitra, cosa è la situazione oggi nel campo? Oggi è molto regno, è regno da mattina, c'è l'acqua, c'è il mado, c'è il cuore, 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 c'è il cuore. Ok, grazie Dimitra!